Ciao a tutti oggi prepareremo il plum cake alla nutella e nocciole. Il tempo di preparazione della ricetta è di 8 minuti circa più 40 minuti per la cottura. Gli ingredienti sono farina, uova, zucchero, burro, lievito per dolci in polvere, latte, nutella e nocciole. I quantitativi degli ingredienti li troverete sul nostro blog all'indirizzo videoricettebimbi.blogspot.it Diamo il via alla ricetta. Iniziamo mettendo la farfalla all'interno del boccale. Mettiamo le uova e lo zucchero e facciamole montare per 5 minuti a velocità 3. le nostre uova sono montate. Adesso andiamo a rimuovere la farfalla e continuiamo con la ricetta. Dopo aver tolto la farfalla andiamo ad aggiungere il resto degli ingredienti. Andiamo a mettere il nostro burro a pezzetti, la farina, il latte, il lievito in polvere per dolci e la nutella. e andiamo ad impastare il tutto per 3 minuti a velocità 5. bene il nostro impasto è pronto. Lasciamolo riposare qualche istante. Nel frattempo prendiamo le nocciole e andiamo a mettere all'interno un togliolo di stoffa e con l'aiuto di batticarne le andiamo a frantumare in maniera grossolana. Adesso andiamo a riporle nel contenitore. prendiamo uno stampo in silicone e andiamo a riporre il nostro composto all'interno dello stampo. Adesso andiamo ad aggiungere il resto della nutella, cercandola di distribuirla in maniera uniforme su tutta la superficie. e andiamo ad aggiungere le nocciole. evitando che si accumuli troppo in un unico punto. adesso andiamo a distribuire le nocciole su tutta la superficie del nostro impasto. e adesso andiamo a infornare per 40 minuti a 180 gradi a forno statico. dopo aver fatto raffreddare il flum cake lo andiamo a posizionare su un vassoio e andiamolo a decorare con la nutella e con lo zucchero a velo. adesso andiamo a decorare con lo zucchero a velo. Plum cake alla nutella e nocciole. grazie e alla prossima ricetta.